Troppo buono il pollo con le patate fatto così! È cotto in padella, quindi senza forno! Prepariamole insieme, è croccantissimo! Taglia il petto di pollo prima a fettine e poi a cubetti piccolini e mettilo da parte. Pela le patate e taglia allo stesso modo anche quelle. Adesso verso un filo d'olio in una padella, aggiungi le patate e l'aglio, copri col coperchio e far cuocere per circa 5 minuti senza mai girare. Poi apri il coperchio, aggiungi il pollo, il sale e le spezie. Mescola e copri di nuovo col coperchio e fai cuocere in questo modo per circa 10-15 minuti. Mescolate di tanto in tanto e gli ultimi 5 minuti aprite il coperchio e fate diventare il tutto croccante. Ed eccole qui! Buonissime! Buon appetito amici! Ciao! Ciao!